E bello a tutti ragazzi, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, oggi andiamo a caccia di Team GoRocket Eh sì, visto che sono arrivati anche i nuovi Shiny Ombra, perché no andare proprio a caccia di quelli lì? E allora Bomberoni, eccoci qua in game Ho appena attivato il radar rocket che infatti vediamo subito raga, vediamo subito Eh, no, perfetto, però dopo aver fatto questo qui raga Dobbiamo allontanarci un attimino, porca di quella miseria, non ce n'è tantissimi qua Cioè, due, vabbè, vabbè, quindi già abbiamo uno qui davanti, qui davanti, qui davanti Dovrebbe essere questo e abbiamo Cliff raga, molto bene Dovrebbe proprio essere lui con l'Arvitar Ombra Siamo a caccia chiaramente dello Shiny, dello Shiny, ma voglio vedere raga Nooo, ma cos'è qui, ma cos'è? Ma un dito Shiny, ma no, ma quando l'ho preso questo, adesso, adesso raga Perché ho catturato dei vari Pokémon venendo qua e non pensavo che c'era dentro un dito in più cromatico Lo Shiny dice, ma dai, ma dai, eccolo qua, che bello, che bello 336 puntilotta raga, guardatelo qua, eh sì Catturato oggi, mettiamolo assolutamente, assolutamente, tra preferiti Eccolo lì, bellissimo, ne ho catturati altri però Bene raga, bene, almeno lo Shiny giornaliero l'abbiamo già preso L'abbiamo già preso, molto bene Ok, volevo vedere infatti le huevos raga Ecco qua, le altre le ho già messe tutte nell'incubatrice A caccia, appunto, devo farmare un bel po' di uova da 12 km Quindi, adesso, spazio huevos a posto Direi che possiamo andare a sconfiggerci Cliffo, 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 ecco qua, a parte la sfida Infatti, eccolo qui, raga, con l'Arvitar Bellissimo, bellissimo Il piccolo Larvi, il piccolo Larvi 4.020 puntilotta, ammazza Cliff, ma cosa gli dai a questi Pokémon? Non ci credono, guardate lì, raga, quanto è rimasto di vita Usiamo lo scudo in caso, non lo so Così almeno, visto che abbiamo già fatto la caricata La utilizziamo nel prossimo Pokémon Vediamo un po' chi è Chi è, chi è, chi è Perché può variare, raga Vi metterò qui a fianco anche le infografiche Le schermatine In questo caso ha proprio Sheptile Sheptile, ok, andiamo a utilizzare così Almeno gli facciamo fuori anche lo scudo Che sappiamo che i leader utilizzano entrambi gli scudi Ok, Sheptile, appena sconfitto Chi è il terzo? Chi è, chi è, chi è? Tirani, tar porca di quella Ma guardate come va giù bene Usiamo la caricata che non si sa mai, raga Reshiram, reshiram, vai Ok, raga, che ammazza C'è la prima volta che vado a sfidare questo nuovo Cliff Possiamo dirla così La pagherò, va bene, va bene Ormai dobbiamo un attimino formare anche la squadrina, eh, raga La squadrina contro questi nuovi leader Eccolo qua, il nuovo, il nuovo L'uovo da 12 km, molto bene E attenzione Shiny Ombra Check, raga Shiny Ombra Check L'Arvidor No, normale 2, 1, 2 Punti lotta Ho appena sconfitto anche, raga Una recluta Che guardate qua Tac, ne abbiamo addirittura due Ci facciamo anche il timbro Ok, timbro giornaliero Molto L'abbiamo preso? Ah, ok, raga Adesso me l'ha dato C'era un problema di internet Non so come mai Quindi adesso per prendere questo Dobbiamo aprirci il Paketongi Il Paketongi Eccolo qua 2000 di polvere Ultra Ball Molto bene Punti esperienza E qua un Pokémon che Attenzione chi è? No, frufru normale Ok, molto bene Eccoci qua Possiamo prendere, raga Prendiamo anche questo qui Quindi uno in più Uno in più Ne ho lì anche un'altra missione, raga Ottimo, ottimo Quanti ne abbiamo fatti? Quanti ne abbiamo fatti? Dove sono? Dove sono? Abbiamo due radar rocket Quindi completati E un componente misterioso Ok, dobbiamo farmarne ancora tanti, raga Perché voglio veramente Prendere più radar possibili Ah, molto bene, raga Guardate che ho trovato Si è ruccia, si è ruccia Eccola qua Andiamo quindi a battere A sfidare anche lei, raga Perché vediamo un attimino Io entrerei Sì, entriamo con questa squadra Vediamo un attimino La sua line up La sua line up Allora noi andiamo Mel metal Va bene, va bene Markrow, ragazzi Markrow Poi anche qui state vedendo I suoi Pokémon che può avere Perché chiaramente Il secondo e il terzo Sono random, raga Quindi non possiamo sapere Più o meno, diciamo Abbiamo il 33% Perché ci sono tre Pokémon Sia del secondo Pokémon Che può lanciare Che del terzo Cioè ultimo Quindi switch un attimino Formate le vostre squadre, raga Che più o meno Possono andare bene Seconda caricata andata E secondo scudo Eccolo lì Molto bene Quindi adesso Ogni colpo che facciamo Andrà a segno A parte che Andiamo anche noi Con lo scudo Andiamo anche noi Attenzione, raga Shiny, ombra check Markrow E infatti come ultimo Eccolo qua Ho un doom, ragazzuoli Ma noi siamo dentro Con Kyogre Che vediamo se riusciamo A fare la caricata decente Perché sempre con una mano È abbastanza complicato Soprattutto con questo nuovo telefono Che ho preso, raga Avevo detto qualche settimana fa Con questo nuovo Samsung Ultra Cioè è abbastanza una patella Porca miseria Però si riesce a far tutto Veramente molto molto comodo Possiamo dire Eh sì, eh sì Eccolo qua Un altro Huevos Molto bene, raga Huevos da 12 km Perché ho intenzione Di fare una grossissima schiusa E attenzione ragazzuoli E qui intanto Shiny check Niente, niente, raga 303 punti lotta Porca miseria E beh Il primo Markrow Non possiamo pretendere Bomberoni Non ci credo Non ci credo Sapete cosa vuol dire Questa schermata Eh sì Eccolo qui Eccolo qui La scimmietta La scimmietta Porca di quella miseriaccia, raga Pampur L'ho trovata Shiny Eccola qua Shiny Che bello Che bello Raga Andiamo sicuramente Con dorata E Attenzione Attenzione Ultraboll Eccolo qui Al massimo Delle nostre capacità di cattura Eh beh Ragazzuoli Sì L'ultima scimmietta, raga Che mi mancava Molto bene Molto bene Tre Ok Lì va benissimo Non abbiamo raddoppiato le caramelle Come messa Ulla Non male Non male 282 Punti lotta L'ultima L'ultima delle mie scimmiette Molto bene, raga Attenzione, raga Abbiamo anche un Kegleon Addirittura Eccolo qui Giriamoci Il po' Che sto per la missione Dai Kegleon Shiny Kegleon Shiny Porca mia Non esce mai Non esce mai Almeno lo catturiamo, raga Perché dobbiamo andare avanti Andiamo così Andiamo così Con Ananas Con la missione Per Geraki Shiny Ah Anche un invito a ride Vediamo un po' Eh sì È proprio Lugia, raga È arrivato Lugia Farci visita Come nuovo Leggendario Entriamo Distruzioni Mi sembra che mi ha invitato Vediamo un attimino In quanti siamo All'interno Della lobby Dai, dai Un bel po' Cinque Molto bene Molto bene Dovremmo riuscirci Se lo tiriamo giù Ci vediamo Lo Shiny Check Ed eccolo qua Appena tirato giù Molto bene, raga Alla fin fine Eravamo dentro Più o meno In otto allenatori Quindi Alla grandissima Alla grandissima Dai, dai, dai Porca di quella miseriaccia Dacci uno Shiny Dai, ci Ma a parte che Oggi non dobbiamo Reclamare Shiny Raga Perché siamo stati Già abbastanza Super fortunati Direi Azzarderei anche a dire Quindi Quindi Lugia Leggendario Leggendario Rosa Rosa Dai Eh no Eh no Pretendiamo troppo 2101 Bomberoni Devo dire che oggi Mi sento fortunato Eh sì Ci siamo portati a casa Vediamo un attimo Vediamo un attimo Quindi Facciamo filtro cromatico Filtro cromatico Ecco qua 2012 2012 Dobbiamo arrivare A 2023 Che ne dite In quest'anno Qua almeno facciamo la super coincidenza Ma guardate qua ragazzuoli Due Shinini Oggi Cioè Uno neanche lo sapevo Cioè Ho guardato nel box Pokémon Ed eccolo qua Infatti Non ho la schermatina Lì dello Shiny dito Eh vabbè Cercherò Qualcosina in rete Eccolo qua Bellissimo raga Bellissimo E inoltre La scimmiettina La scimmiettina Perché se facciamo Pa Eh no Cosa ho scritto Pa Pan 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 C'è già lui Eccolo qui raga Guardate qua Ho Uno Due Tre Quattro Cinque scimmiette rosse Una verde Che poi ero andato anche a scambiare Però attenzione Eccoli qui così Almeno sono elencate tutte Anche l'evoluzione Raga Guardate lì Simi Sage Bellissimo Guarda Che cacchio di una Di una scimmietta È fantastica E abbiamo concluso La collezione Oggi raga Pampur Eccolo qua Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto tantissimo Che lo cercavo da matti Raga Questa scimmiettina qua Che non si presenta neanche così malaccio È abbastanza decente E ho concluso finalmente Chiaramente raga Adesso l'obiettivo È andare a trovarne un'altra Per fare poi La famiglia Però dai Mi ritengo già Molto soddisfatto Perché almeno l'ho registrata Allo Shiny Dex Qua con le missioni Siamo messi così Direi di prenderci Raga L'ultimo Elemento Eccolo qua Il componente misterioso Che adesso io comunque Si andrò a farmarne Il più non posso Raga Perché attualmente Come siamo messi Allora abbiamo Un radar rocket E due componenti Misteriosi Bomberoni Volevo dedicare una parolina Su questa missione qua Pronti partenza Go Al quarto step Perché me l'avete chiesto in tantissimi Joe ma cosa devo fare qua Praticamente raga Una volta raggiunto il quarto step Questo qui che vedete Bisogna aspettare Dobbiamo aspettare Perché infatti ce lo viene detto Raga Eccolo qua Il professor Willow Sta facendo un'indagine Per questa ricerca Torna a trovarci Torna presto a trovarci Per ulteriori informazioni Quindi raga Quando il prof Sarà pronto Questa missione qua Praticamente si sblocca da sola Sto effettuando diversi Pokémon ombra raga Tra reclute e leader Stiamo a vedere Speriamo In un bel shiny ombra E fatemi sapere Voi bomberoni Se avete sculato Appunto con uno shiny ombra Che vi siete portati a casa Oppure con un dito O anche un leggendario E soprattutto Fatemi sapere Come siete messi voi Con la famiglia delle scimmiette E per oggi Bomberoni da Gamer Joe È veramente tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre aggiornati E se il video raga Vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un bellissimo like Gamer Joe vi saluta E ci vediamo alla prossima Ciao Bombers